Buongiorno a tutti, siamo qui nella nuova sede CISOM di Casale Monferrato, io sono Daniele Furrani, il capogruppo. Con una quarantina di ragazzi abbiamo aperto questa associazione l'anno scorso, del 2021, e oggi finalmente la inaugureremo, perché a causa Covid, restrizione, abbiamo ritardato un po' l'inaugurazione. Quindi oggi alle 11 ci sarà la Santa Messa celebata qui nella Chiesa dei Frati, proprio a ridosso della nostra sede di Casale Monferrato. Successivamente il taglio del nastro alla presenza di Forze dell'Ordine, Sindaco dei Comuni di Casale, altri sindaci dei comuni della zona, e tutti i volontari sia del nostro gruppo che di altre associazioni, di altri gruppi. Il nostro gruppo CISOM, Ordine di Malta di Casale, effetto servizi di trasporto pazienti in ambulanza. Attualmente svolgiamo, oltre che servizi ordinari di trasporti, assistenze sanitarie a eventi sportivi, manifestazioni, parecchie convenzioni con vari comuni, varie case di riposo e varie strutture. Dal mese di ottobre di quest'anno entriamo anche nel circuito 118, in forma estemporanea, quindi per dare un aiuto in più alla nostra popolazione casalese, che è abbastanza vasto come territorio, e un'associazione in più, oltre alle tre che ci sono già attive sul territorio, siamo convinti che possa dare un grande aiuto, una gran mano. Con oggi diamo appunto l'inizio ufficialmente a questo nostro percorso. Siamo sempre ben disposti a ricevere nuovi volontari, quindi se qualcuno fosse interessato, la nostra sede è a Casale, in via Battaglieri 11, a ridosso della Chiesa dei Frati. Anche se lo pervenici a trovare, a fare due parole, per un saluto, per un caffè, ne siamo a disposizione.